SILENTO INDAGGHIAMO SU DELLE SCOMPARSE Alcune recenti, altre risalenti a diversi anni fa. Lo schema è inquietante. Vengo dalla sezione persone scomparse. Harry Hall. Abbiamo studiato i tuoi casi in accademia. Dopo così tanto tempo? Sì, sei lassù tra le leggende. Non posso continuare a coprirti. Non importa chi sei. Dimmi. Sono le nevicate a scatenare il killer. Per chi lascia i pupazzi di neve? I pupazzi di neve. Taglia le cose a pezzettini. Lo fanno i bambini per ristabilire l'ordine. Hanno telefonato. Un'altra donna. Hanno chiamato dalle persone scomparse. Chi è scomparso? Sylvia Otterson. Sono io, Sylvia Otterson. Perché denunciare la sua scomparsa? Tieni a vedere il pupazzo di neve che ho fatto per te. Ha denunciato la sua scomparsa prima di ucciderla. Non deve trappelare una parola. È stato un suicidio, fine della storia. Sicuro che fosse da solo? Dov'è Katrin? Ho ricevuto questo. Lo faccio per te. È personale. Ha seguito le nostre mosse. Sta giocando. Andiamo! Potevi salvarle, salve. Ti ho dato tutti gli indizi. Tieni! Potevi dasko. Grazie a tutti